Perdere 6 chili soltanto nel primo mese di dieta mangiando quando vuoi la pizza, quando vuoi il gelato, quando vuoi la pasta, quando vuoi fare gli aperitivi, quando vuoi le cene, la torta, i biscotti, quando pare a te. Sarebbe fantastico, vero? Perché è esattamente quello che ha fatto la nostra amica e che hai visto. 6 chili polverizzati mangiando quello che decide lei, non quello che decido io, non quello che decide il mio team che la segue, quello che decide lei. Come cavolo ha fatto? Ce l'ha fatta perché il nostro sistema è l'unico che ti spiega come mangiare tutti i cibi che decidi tu e utilizzarli per aumentare il tuo metabolismo e bruciare grasso. Non un sistema che ti elimina tutti i cibi, ti distrugge il metabolismo e ti fa recuperare i chili con gli interessi. Quindi, se vuoi fare come la nostra amica che ha polverizzato chili di grasso senza fare la fame, commenta qui sotto oppure scrivimi un messaggio e il nostro team aiuterà anche te. Perdere 6 chili soltanto nel primo mese di dieta mangiando quando vuoi la pizza, quando vuoi il gelato, quando vuoi la pasta, quando vuoi fare gli aperitivi, quando vuoi le cene, la torta, i biscotti, quando pare a te. Beh, sarebbe fantastico, vero? Perché è esattamente quello che ha fatto la nostra amica e che hai visto. 6 chili polverizzati mangiando quello che decide lei, non quello che decido io, non quello che decide il mio team che la segue, quello che decide lei. Come cavolo ha fatto? Ce l'ha fatta perché il nostro sistema è l'unico che ti spiega come mangiare tutti i cibi che decidi tu e utilizzarli per aumentare il tuo metabolismo e bruciare grasso. Non un sistema che ti elimina tutti i cibi, ti distrugge il metabolismo e ti fa recuperare i chili con gli interessi. Quindi, se vuoi fare come la nostra amica che ha polverizzato chili di grasso senza fare la fame, commenta qui sotto oppure scrivimi un messaggio e il nostro team aiuterà anche te.